Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Apprendiamo dal Sole 24 Ore, che è poi l'osservatore romano della globalizzazione turbo-capitalistica sradicata e sradicante, qualcosa che veramente merita una pur breve considerazione. E lo apprendiamo in vero senza nemmeno troppo stupore. Il Sole 24 Ore ci segnala che la Francia di Macron è pronta già a prolungare l'uso della infame tessera verde, che la neolingua pacificante chiama Green Pass, fino all'estate del 2022. Come ho provato a sottolineare nel mio libro Golpe Globale, l'infame tessera verde sarà il nuovo lasciapassare del suddito dell'ordine terapeutico. Si tratta, e non mi stancherò di ribadirlo ad nauseam, di un pericolosissimo strumento politico-ideologico, non già medico-scientifico. Parafrasando il sempre lucido Giorgio Agamben, anche in questo caso, come già in molti altri, il discorso medico-scientifico offre ottimi pretesti per introdurre forme sempre più pervasive e sempre più sorveglianti di controllo sociale e di governo autoritario delle cose e delle persone. Del resto, la lezione l'abbiamo appresa ampiamente, almeno quanti di noi non vegetino nello stato del lockdown cognitivo permanente. L'infame tessera verde, contrariamente a quanto ripetuto a tambur battente dalle retoriche addomesticanti buone solo a consolidare l'ordine iniquo delle cose, non serve affatto a produrre ambienti sicuri. Non genera ambienti, come usa dire, covid-free. E ciò non foss'altro che per la ragione incontrovertibile e palese, per cui anche i muniti della infame tessera verde, in quanto benedetti dal siero sempre laudando in secula seculorum, possono, ebbene sì, contagiare, contagiarsi, finire in ospedale e in taluni casi estremi perfino passare al regno dei più. Insomma, diciamolo aperti sverbis, l'infame tessera verde tutto è forché uno strumento medico-scientifico e che venga presentata come uno strumento medico-scientifico fa parte appieno del nuovo ordine del discorso. Il nuovo ordine del discorso infatti copre e legittima la struttura sociale, politica ed economica con un'ideologia che prende in prestito il lessico della medicina e della scienza e che prende in prestito quel lessico per contrabbandare interessi particolari di gruppi particolari legati, savasandir, alle classi dominanti. È quello che ho chiamato nel mio libro il golpe globale, quello che forse Antonio Gramsci avrebbe appellato rivoluzione passiva. La rivoluzione passiva, Gramsci-Docet, è la rivoluzione che i gruppi dominanti fanno per consolidare e rinsaldare l'asimmetrico rapporto di forza vantaggioso per loro e ora reso ancora più vantaggioso di quanto già non fosse. Il punto sta proprio in ciò a giudizio di chi vi sta parlando. I dispositivi che si attivano per fronteggiare l'emergenza presentano quasi sempre la spiacevole tendenza a durare, a cristallizzarsi in una nuova normalità. Secondo l'esempio francese poc'anzi citato, pare che ciò stia accadendo anche per quel che concerne l'infame tessera verde, vale a dire il nuovo strumento panottico di controllo disciplinare dei sudditi del nuovo leviatano tecno-sanitario. Il nuovo leviatano tecno-sanitario è la fase estrema, direbbe Lenin, o è la variante, direbbero i virologi, del capitalismo della sorveglianza. Insomma, realmente fuoristrada, mi pare, dopo tutto che sia, chi continua a ritenere che la tessera verde sia, sic et simpliciter, una misura sanitaria destinata a sparire in breve tempo. Non è così. La tessera verde durerà, come molte altre misure che si sono attivate per l'emergenza e che già da tempo paiono essersi consolidate in una nuova stabile duratura normalità, all'insegna del post-umano, come lo chiamano, e io preferisco tuttavia continuare a chiamarlo disumano. Grazie. 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 Grazie.